Sono al Medeo, Giubarton, che sta a San Panavet, in provincia di Manco avevo 30 anni più in terra adesso, che è poco da fare, la mattina alle 6, alle 4 io ho pescato ho venuto lì, e quando ho venuto a fare pulazione e poi dopo ho avuto dei pulastri con i cani, i gatti, con tutti chi lavorerà e per forti, che avevo un grosso di mondo, avevo sempre quello da fare e poi ho avuto, e poi ho avuto, e poi ho avuto la mano e ho avuto sempre a quel punto in sera, perché la curta è grossa è rimasta molto a fare quando sono alla sera, ho appeso per me, perché sono bene per una gente che sta a fare con me, e poi ho avuto la mano e la mattina, arrivo e la mattina, per andare a pesca quando ho appeso la mattina, faccio la macchina io sono appassionato del balancino, i miei cani, la milancella dicono in italiano, però mi chiamano il balancino, e loro hanno il pesco, e questo pesco con il balancino parecchie ore, e la mia specialità, la pesca che fanno più cieca a spiare da mangiare, è l'uccio perca, l'uccio perca la calda, ogni calda pulisi, un po' per fare il meteo, un po' per metto in fredda, però per i giornali non c'è l'aria, cioè al capi, a quanti in grosso, anche a destino non c'è, che vuole poter capire, però tanti oltre non c'è senza, più seri oltre che non c'è senza, più oltre che non c'è, però il pesco nobile è per la pesca dalle cioperte.